La balena della tempesta di Benji Davis Nico viveva in riva al mare con il suo papà e sei gatti. Ogni giorno il papà di Nico partiva presto con la sua barca da pesca per una lunga giornata di lavoro. Non rientrava a casa fino a sera. Una notte intorno a casa inforriò una terribile tempesta. Al mattino Nico andò in spiaggia a vedere cosa si fosse lasciata alle spalle e camminando lungo la riva vide qualcosa in lontananza. Mentre si avvicinava Nico non poteva credere ai propri occhi. Sulla sabbia c'era una piccola balena portata fin lì dal mare. Nico si interrogò sul da farsi. Sapeva che per una balena stare fuori dall'acqua non era una cosa buona. Devo fare presto, pensò. Nico fece di tutto per far sentire la balena a casa. Le raccontò della vita sull'isola e la balena era un'ottima ascoltatrice. La notte si avvicinava e si stava facendo buio. Nico aveva paura che il papà si sarebbe arrabbiato trovando una balena in bagno. In qualche modo Nico tenne il suo segreto al sicuro per tutta la cena. Riuscì perfino a prendere di nascosto qualcosa da mangiare per la sua balena. Ma sapeva che non poteva durare. Il papà non si arrabbiò. Era stato così occupato da non accorgersi che Nico si sentiva solo. Però disse che dovevano riportare la balena di nuovo in mare, al suo posto. Nico sapeva che era la cosa giusta da fare, anche se era difficile dirsi addio. Era contento che il papà fosse lì con lui. Nico pensava spesso alla balena della tempesta. Sperava un giorno, chissà, il prima possibile di rivedere la sua amica.